ben trovati ben trovati in questo nuovo video con questo video inauguriamo la nuova rubrica sul canale che si chiama sentieri d'amore questa è una rubrica in cui esploreremo la psicologia delle relazioni affettive ci concentreremo sostanzialmente sulla psicologia della relazione di coppia è proprio uno spazio dedicato alla coppia e iniziamo questa rubrica parlando di un tema che è assolutamente fondamentale nella coppia che è assolutamente fondamentale nella vita di ognuno di noi che è molto molto caldo e molto molto sentito quando si parla di coppia parliamo di tradimento lo so lo so come mai iniziare una nuova rubrica parlando di questo e non parlando di qualcosa di più positivo di più allegro di più apparentemente utile come capirsi in coppia come mostrare i migliori sentimenti che cos'è l'amore vero di coppia faremo tutto questo ma ho pensato di partire dal tema del tradimento perché un tema purtroppo centrale sia nella vita di coppia sia nella vita personale perché quando subiamo un tradimento sostanzialmente si spezza qualcosa dentro di noi e perché questo perché iniziamo a chiederci che cosa ho fatto io di male che cosa ho io di sbagliato iniziamo a pensare di non essere amabili iniziamo a sentirci sbagliati o in colpa perché subiamo un tradimento perché qualcuno ci tradisce in realtà questo video vuole essere proprio un passaggio per tutti per chi tradisce e per chi subisce il tradimento un passaggio di comprensione cioè vorrei fare un video che non ho trovato tra l'altro in rete quindi credo che sia unico in questo in questo genere con un elenco di tutti i motivi per cui si tradisce per cui tradiamo e per cui veniamo tradiziamo tra subiamo un tradimento ok questo video sarà quindi solo un elenco dei dieci motivi principali più uno alla fine sarà l'undicesimo motivo che è particolare del forse uno dei più importanti e dei più diffusi perché ognuno di noi possa avere una mappa per comprendere cos'è che spinge al tradimento cos'è che c'è dietro il tradimento ovviamente vi chiedo una cosa sospendere il giudizio qui non stiamo giustificando il tradimento non stiamo in qualche modo dicendo che tradire fa bene o fa male sospendiamo il giudizio cerchiamo di capire capire che cosa succede e quali sono le motivazioni che favoriscono il tradimento allora entriamo subito nel vivo e andiamo al nostro elenco questo elenco non è in ordine di importanza è un elenco dei dieci motivi ma non messi in ordine il primo è problemi di coppia e qua ovviamente è facile pensare che sia il più diffuso e più semplice in realtà non è così cerchiamo di capire che vuol dire problemi di coppia qui daremo solo una breve descrizione dei dieci anzi degli undici motivi poi ci sarà un video dedicato ad ogni motivo un breve video che approfondirà qui facciamo solo l'elenco allora per problemi di coppia intendiamo quello che si verifica in due sfere quali sono i due indicatori dei problemi di coppia il primo è la vita emotiva di una coppia il secondo è il contatto fisico per vita emotiva intendiamo scambio di emozioni se una coppia si riduce ad essere la coppia azienda cioè quella coppia che comunica solo a livello razionale che facciamo domani come organizziamo la vacanza chi fa la spesa chi va a prendere i figli se ci sono ma non c'è mai una comunicazione profonda che tocca delle emozioni che suscita delle emozioni quello è un problema dall'altro lato se le uniche emozioni che si provano in coppia sono emozioni sgradevoli cioè le uniche emozioni che proviamo sono rabbia paura dell'abbandono di lasciarci tristezza ma non c'è mai uno scambio emotivo di gioia uno scambio emotivo di serenità uno scambio emotivo di emozioni positive di emozioni gradevoli a quel punto possiamo dire che siamo nei problemi di coppia vediamo ora il secondo motivo vendetta o punizione e anche questo è importante un altro dei motivi che spinge al tradimento è vendicarsi punire il partner ovviamente questo si fa a livello inconscio è alcune volte anche consapevole per punirti io ti tradisco però qui parlo del livello inconscio che vuol dire vendetta o punizione che o mi vendico e ti punisco per un tradimento che ho già ricevuto spesso dopo qualche anno nemmeno dopo qualche mese la persona si sente spinta ad una relazione al di fuori della coppia per vendicarsi di un tradimento ricevuto anni prima ma non è solo questo vendicarsi può voler dire mi vendico del fatto che tu tieni più ai tuoi amici che a mese quello che percepisco mi vendico del fatto che tu non mi fai sentire importante nella tua vita quindi in qualche modo ti voglio punire per qualcosa che non riesco a dirti che non riesco a chiarire con te e quindi inconsciamente faccio questo gesto per darti la giusta punizione vediamo il terzo il terzo è mancanza di comunicazione che vuol dire mancanza di comunicazione vuol dire che o ci sono troppi silenzi questo spesso sono le donne a lamentarlo degli uomini quindi non c'è non ci sono proprio spazi di comunicazione si tende al silenzio oppure si parla ma non sia un dialogo aperto cioè io non sento di poter comunicare i miei bisogni non sento di poter parlare con te di come sto di come mi sento non sento di poterti dire cos'è che non mi piace mi piace della vita quindi alla fine sento di non poter comunicare a livello vero a livello profondo con te la mancanza di comunicazione attiva la ricerca di una comunicazione che spesso trovo in un'altra persona e quindi attivo una dinamica di tradimento una relazione parallela andiamo al quarto motivo disturbo di personalità ecco sul disturbo di personalità entriamo ora qui in un'area un po più tecnica ognuno di noi ha dei tratti a una personalità che si esprime con dei tratti specifici e che spesso quando vengono esasperati diventano un vero e proprio disturbo alcune personalità quella di cui si parla tanto che va molto di moda è quella narcisistica alcune personalità hanno molta più probabilità di tradire molto più tendono molto di più a tradire per vari motivi per esempio una spiccata personalità narcisistica o un disturbo di personalità narcisistica può portare al tradimento perché io ho bisogno di affermare la mia grandiosità ho bisogno il narcisista bisogno di avere un pubblico di sentirsi unico di sentirsi grandioso e quindi cercherò scappatelle relazioni flirt per confermare la mia grandiosità e quindi tenderò a tradire in coppia ma anche questo lo approfondiremo in un video specifico andiamo avanti al numero 5 siamo a metà quasi a metà della classifica abbiamo lo stile di attaccamento e anche qua entriamo un po più nel tecnico che cos'è lo stile di attaccamento iper semplifico è in base al rapporto che nell'infanzia da neonati sviluppiamo con i nostri caregiver cioè con chi si prende cura di noi diciamo con la mamma per semplificare noi sviluppiamo uno stile di attaccamento che come un programma che abbiamo dentro inconscio che ci dice come stare nelle relazioni intime che tipo di attaccamento sviluppiamo con le persone importanti per noi e quando abbiamo quando abbiamo sviluppato nell'infanzia uno stile di attaccamento insicuro avremo costante bisogno di confermi avremo difficoltà a reggere l'intimità non ci sentiamo mai tranquilli in una storia quindi chi ha uno stile di attaccamento insicuro può tendere al tradimento per bisogno di confermarsi per bisogno di avere queste questo affetto che non ritrova solo nella coppia e continuiamo con il numero 6 bisogno di conferme e qua direte ma è quello che abbiamo appena detto bisogno di conferme no in realtà l'abbiamo messo l'ho messo come punto a sé perché è vero che se un disturbo di personalità o una personalità spiccatamente narcisistica ho bisogno di conferme è vero che se ho un attaccamento insicuro bisogno di conferme ma è vero anche che posso avere bisogno di conferme anche se non ho queste caratteristiche ma se per esempio vengo sono continuamente disconfermato nella coppia io sto bene con te ti amo proprio dei sentimenti ma puntualmente tu non mi dai mai conferme tu mi metti sempre al secondo posto almeno io percepisco questo tu mi critichi continuamente tu mi sminuisci anche davanti agli altri quindi in questo caso io ho bisogno proprio di conferme di dire ma io valgo più di quello che tu mi fai percepire più di quello che tu mi dici ogni giorno e quindi queste conferme dove le cercherò nella persona di solito il collega o l'amico che inizia a dirmi tu vali tu sei grande l'amico l'amica è indifferente la persona che mi conferma e quindi io tenderò inconsciamente sarò attratto attratta da questa persona andiamo avanti e siamo al numero 7 il numero 7 signori e problemi personali e che vuol dire problemi personali qui di solito si attiva il giudizio perché si pensa ma che c'entrano i problemi personali ognuno di noi ha problemi personali allora perché tradisco perché ho problemi personali un po più semplice ma anche complessa la cosa che voglio dire che quando siamo sotto forte stress quando per esempio affrontiamo un lutto quando c'è una crisi di coppia fortissima quando sento di avere problemi anche a livello pratico economico tendo ad evadere da questo tendo a cercare punti momenti esperienze di evasione c'è chi li cerca nell'alcol chi nello shopping e c'è chi li cerca nel sesso o in una nuova relazione che mi fa distrarre mi fa sentire vivo mi dà finalmente qualcosa di positivo in un momento di estremamente problematico della mia vita quindi attenzione anche qua al giudizio anche questo è una spinta verso un'esperienza di questo tipo e andiamo al numero 8 numero 8 esplorazione di sé questo devo dire che è il mio preferito è il mio preferito perché io adoro l'esplorazione di sé ma non è che ci siano motivi migliori o peggiori che spingono al tradimento però è bello capirlo è utile secondo me capirlo che vuol dire esplorazione di sé vuol dire che tutti nella coppia o nelle varie relazioni non esprimiamo e non esploriamo tutte le nostre parti tutte le nostre sfaccettature ma ne portiamo solo alcune e allora quando dopo tempo io so che nella mia coppia sto esplorando delle parti di me la parte responsabile la parte che si chiacchidisce l'altra persona la parte bambina che gioca ma per esempio non riesco a esprimere la parte chiacchierona perché purtroppo un compagno una compagna con cui parlo poco non riesco a esprimere la parte simpatica perché se se provo a fare battute a ridere vengo scambiato per la persona stupida o poco seria insomma non piace alla mia compagna al mio compagno questo non posso esprimere la parte trasgressiva perché lei o lui è una persona per cui tutto è ordinato tutto si fa nelle regole allora queste parti sento che non le sto esplorando e questo dagli è oggi dagli è domani come si dice queste parti iniziano andare in sofferenza e quando e se trovo una persona quindi una relazione non è tanto la persona in sé che mi permette di esprimere queste parti mi ascolta io posso parlare per ore faccio battute ridiamo insieme trasgrediamo non parlo solo di sesso e trasgrediamo nel senso che ci piace fare le marachelle invece col mio compagno con la mia compagna è vietato a questo punto io sento che sono attratto da quella relazione non perché voglio mancare di rispetto o voglio tradire ma ahimè perché sto esplorando delle parti di me ripeto togliamo il giudizio non sto dicendo è giusto e sbagliato sto dicendo quello che accade comprendiamo quello che accade e continuiamo siamo al numero 9 ci avviciniamo alla fine trasgressione un po quello che stavamo dicendo ma qui è diverso non è che esploro le varie parti di me c'è proprio umanamente un normale sano gusto della trasgressione molte persone che io ho ascoltato mi hanno detto che erano inebriate non tanto dalla persona non tanto dall'attrazione verso un'altra persona e non tanto da quello che rappresentava rappresentava questa scappatella o relazione ma dal fatto di dover tenere tutto nascosto di avere un segreto che non avevano mai avuto di non essere scoperti proprio l'adrenalina che la sensazione di trasgredire gli dava perché erano persone che non avevano non si erano mai concesse delle trasgressioni e quindi proprio il gusto puro del trasgredire come dire avrebbero potuto fare anche un'altra esperienza diversa non era l'esperienza in sé o la persona in sé ma abbiamo scoperto insieme che era al 90 per cento era proprio finalmente voglio trasgredire ok puro gusto della trasgressione e andiamo ora al numero 10 vite non vissute e questo è bello questo è proprio molto bello e tra l'altro ha avuto un racconto di una cara amica su questo ho ascoltato anche ovviamente tante diverse persone che vuol dire vite non vissute semplice ma anche qua un po complesso se io a 16 anni ero innamorato della mia migliore amica però poi non ho avuto il coraggio di dirglielo questo rimane un po nel mio inconscio come un sospeso come una vita non vissuto una porta che non ho aperto un'esperienza che ho dovuto troncare oppure a 19 anni 20 anni ho avuto ero innamorata innamorato veramente di una persona più grande di me ma non ho avuto il coraggio oppure i miei genitori me l'hanno impedito i miei amici mi hanno convinto non ho vissuto quell'esperienza anche questo una vita che non ho vissuto che mi sono negato negata a quel punto può succedere molto semplicemente che a 40 50 30 80 stendiamo un po i numeri si ripropone la stessa situazione noto che provo attrazione verso un'amica oppure come abbiamo detto verso la persona più grande un uomo più grande a quel punto che succede che il mio inconscio dice cavolo questa è l'occasione per portare a termine quello che non abbiamo fatto vent'anni fa e quindi mi mi attrae la vita non vissuta tutti questi meccanismi questi dieci che abbiamo visto sostanzialmente sono inconsci cioè io mi sento comunque attratto dalla situazione ma nell'inconscio sarà per motivi assolutamente diversi a che serve prima di dirvi l'undicesimo motivo a che serve avere una mappatura serve secondo me moltissimo da un lato perché se ci sentiamo attratti dal tradimento possiamo prendere questi dieci motivi e dire che mi sta succedendo che succede dentro di me forse mi ricorda una vita non vissuta no il gusto della trasgressione perché mi sento un po morto morta ultimamente e voglio adrenalina forse ho un problema di coppia e non voglio vederlo quindi interrogarsi su che sta succedendo dentro di me se mi sento attratto dal tradimento può essere utile se invece ho subito un tradimento qui attenzione è molto importante uscire dalla logica perché mi ha tradito perché io merito questo io non lo meritavo oppure che cosa mi manca perché non sono amabile questo video voglio che sia proprio un atto di liberazione per chi ha subito un tradimento perché se guardate bene la maggior parte dei dieci motivi non sono non riguardano il partner problemi di coppia può riguardare tutte e due vendetta o punizione può riguardarmi perché ho fatto qualcosa mancanza di comunicazione può un po riguardarmi anzi mi riguarda perché si comunica in due però vedete disturbo di personalità stile di attaccamento bisogno di conferme problemi personali gusto della trasgressione vite non vissute qui parliamo di una persona che potremmo essere noi il nostro partner che tradisce per qualcosa che non riguarda l'altro quindi sfatiamo questo mito sfatiamo questo sentirsi in colpa sentirsi indegni se subiamo un tradimento ok e veniamo all'undicesimo motivo che è attenzione attenzione emozioni mai provate che vuol dire emozioni mai provate questo è una delle cose più semplici che accadono più spesso se io per esempio ho iniziato la storia col mio attuale compagno la mia attuale compagna in modo un po più razionale cioè sia stiamo bene insieme abbiamo costruito tanto abbiamo ora una famiglia però non ho provato quella gioia di sentire le farfalle nello stomaco di avere l'innamoramento quello proprio che ti travolge quella è un'emozione che io non ho mai provato non conosco quindi se mi capita stavo dicendo purtroppo invece non è purtroppo rimaniamo neutro se mi capita di sentirlo verso un'altra persona ho l'attrazione per un'emozione che non conosco non ho provato mi sconvolge tante persone uomini e donne davanti a me hanno detto dottore io non so cosa mi succede sono sconvolta sconvolto provo delle cose che non ho mai sentito prima e questo è uno dei casi più difficili anche da gestire perché la persona da un lato a ciò che conosce semmai una famiglia un matrimonio oppure una coppia stabile in cui si sente anche bene felice però dall'altro prova delle cose che non conosce che sono lo stravolgimento totale e l'esempio non è solo il farfalle nello stomaco è per esempio non ho mai provato questa sensazione di poter parlare di tutto con una persona questa emozione questa sensazione di totale libertà apertura con la mia collega col mio collego provo questo e non so che fa sono sconvolto da questa cosa col mio compagno con la mia compagna non l'ho mai provato non l'ho mai provato nemmeno prima ecco questo è un motivo sinceramente che sconvolge la vita delle persone allora chiudiamo questo video che spero sia interessante per voi è utile soprattutto dicendo che l'esperienza del tradimento è un'esperienza complessa non si può ridurre a mi ha mancato di rispetto non mi ha mancato di rispetto non dico che questo non c'è dico non si può ridurre a quello se no non la capiamo non si può e non si deve né giustificare né condannare in questo caso ma qui siamo per capire e capendo comprendendo sempre di più possiamo viverla meglio non meglio nel senso ci tradiscono diciamo che bello allora io ho capito che lo stile di personalità quindi sono felice per lui felice per me no meglio intendo uscendo fuori da sensi di colpa rabbia omicida cieca ecco possiamo un po capire perché è sempre meglio capirci e capire gli altri ok faremo farò dei video su ognuno di questi motivi in modo che c'è proprio una una sorta di come dire continuità e di approfondimento su tutte queste possibili dinamiche spero che questo video sia utile se è così condividetelo con tutte le persone che semmai sono distrutte per un tradimento o si danno la colpa per un tradimento condividetelo con persona a cui possa essere utile noi ci vediamo la prossima volta con altri video di sentieri d'amore video dedicati alla coppia